Ne colleghiamoci prima con Giorgio Saracino per avere i dettagli di questa notizia appena arrivata. Giorgio, buongiorno. Buon pomeriggio, esattamente notizia appena arrivata. Il sangue presente sul rubinetto della stanza numero 104, quella che era nella disponibilità della famiglia di Cata, non appartiene alla piccola. E non solo nei borsone, nel borsone e nei due trolli che sono usciti da qui il 10 di giugno e che sono ricomparsi poi il 17, il giorno dello sgombero, non ci sono tracce della piccola Cata. Per questo motivo Milo si ripartirà da qui, dall'ex Hotel Astor, nei prossimi giorni per un nuovo sopralluogo dei Carabinieri per cercare di capire che fine abbia fatto la piccola Cataleia. Devo dire, grazie Giorgio, torniamo a collegarci più avanti con te. Per altri particolari, la dottoressa Ruzione non ha mai creduto nell'ipotesi che fosse appartenesse a una cata il sangue sul rubinetto della stanza, tantomeno le tracce nei borsoni. Difficile che uno rapisca una bambina a mettere un borsone e poi torna col borsone e se lo appoggia in stanza. Non era molto credibile. Mi sembrava francamente totalmente improbabile. È corretto comunque che l'accertamento sia stato disposto. Non la questione su questa decisione perché in un contesto di questo tipo dove fondamentalmente nessuno ha elementi utili di alcun genere o quantomeno chi ce l'ha se li tiene stretti evidentemente non li ha condivisi con le forze di polizia e con gli inquirenti. È chiaro che andava tentata ogni strada possibile ed è corretto che sia avvenuto, ma oggettivamente le probabilità di trovare elementi utili erano veramente ridotte al lumicino. Io continuo a pensare che da lì quella bambina non sia mai uscita.